Per Santa Lucia oggi è proprio qui vicino, quindi... A parte il fatto che noi siamo attaccati, siamo veramente, siamo, è nello stesso condominio, questo per... e ci porta, ci porta bene, ecco, scusami... E così, andiamo, 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 di falco, di falco, di falco, di falco, allora, come dici, ti sento rilassato, oggi no? Cosa farai, un'altra gag? No, già è pronta, un'altra gag è pronta, no... E questo dove si intervista di... Ma posso intervista di... Ma posso intervista di... Quanto costa un'intervista... Quanto costa un'intervista di... 10.000 euro Se mi fate le rate va bene Scondiamo, scondiamo Va bene, va bene Allora, siamo contenti per questa vittoria Stiamo aspettando del mister Allora